Ecco il pazzesco pronostico per Parigi. Sinner visto dagli occhi di una campionessa. Ecco cosa ha detto. Prima di continuare, iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia il tuo like. La storia si sta scrivendo, ma la pagina finale rimane ancora nascosta. Una svolta epocale è alle porte nel mondo del tennis, e la protagonista è un'icona che ha già lasciato un segno indelebile sul campo. Francesca Schiavone, la leggenda del tennis italiano e vincitrice a Roland Garros, è pronta a rivelare il suo prossimo grande passo. Un nuovo capitolo sta per essere scritto nella storia dello sport, un progetto che promette di rivoluzionare il tennis. Lo Schiavone Team Lab. Non una semplice accademia, ma un laboratorio dove i valori umani e l'eccellenza tecnico-tattica si fondono per forgiare i campioni di domani. La visione di Schiavone. Un futuro in cui i valori personali marcano la differenza sul campo e fuori. Mentre l'attenzione si concentra su di lei, un altro nome risuona nel panorama tennistico. Yannick Sinner. L'astro nascente del tennis italiano, che con il suo impegno e spirito di sacrificio sta catturando l'interesse nazionale, elevando il tennis a nuove vette di popolarità. Ma cosa ha detto Schiavone di questo giovane campione? La risposta potrebbe sorprendervi. In una recente intervista, Schiavone ha espresso parole di stima e ammirazione per Sinner, definendolo non solo un giocatore di grande carattere, ma anche il favorito per il prossimo torneo a Parigi. Sì, avete sentito bene. Secondo Schiavone, Sinner è il prescelto per dominare la Terra Rossa. Ma la verità completa sarà svelata solo alla fine. Ora vogliamo sapere cosa ne pensi tu. Lascia un commento qui sotto e condividi le tue previsioni. Yannick Sinner sarà il nuovo re della Terra Rossa?